Musica Positivo il bilancio di questa prima giornata di vaccinazione per gli ultraottantenni della TS della Montagna. Inaugurare la fase 1 terra una signora di 104 anni di Sondrio e altri due ultracentenari di 102 anni. In totale oggi vaccinate 469 persone. Martedì scorso il comunicato del prefetto di Sondrio. Oggi la risposta del sindaco di Val di Sotto Alessandro Pedrini che dice Le piste attualmente non possono essere definite aree sciabili attrezzate e quindi possono essere frequentate. È riservata agli operatori stagionali dell'indotto agricolo. Circa 300 le persone interessate al trattamento di disoccupazione dell'Inps. Comune e Consorzio Solco insieme per favorire una serie di azioni socioculturali che vedranno la propria realizzazione nel popolare quartiere sud-ovest del capoluogo. Buonasera ai telespettatori di TSN. Nuovo appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. Positivo il bilancio di questa prima giornata di vaccinazione per gli ultraottantenni dell'ATS della Montagna. A inaugurare la fase 1 ter della campagna anti-covid è stata stamane a Sondrio una signora di 104 anni. Hanno seguito il suo esempio altri due ultracentenari, 102 anni per la precisione, rispettivamente di Chiavenna e di Esine in Val Camonica. Oltre ai punti vaccinali di Sondrio, Chiavenna, Morbegno ed Esine, da domani sarà attivo anche il punto vaccinale a Sondaro, presso il Morelli. In totale oggi sono state vaccinate 469 persone. Vediamo. Uno dopo l'altro si sono presentati puntuali e con convinzione hanno scoperto il braccio per farsi iniettare la prima dose del vaccino anti-covid. Sono i primi ultraottantenni, poco meno di 150, che oggi sono stati vaccinati nella sala convegne al Policampus di Sondrio. Una data importante, forse più per gli accompagnatori e i sanitari che per gli anziani stessi, addirittura sorpresi di tanta attenzione riguardo a questo vaccino. Siamo ancora importanti. Come un vaccino normale. Ecco, com'è andata? No, per me è andata benissimo. Nessun timore su effetti collaterali o è all'efficacia del vaccino Pfizer, convinti che per la propria salute sia importante proteggersi. Contentissima, è una cosa che è utile, che va fatta, senz'altro, perché è l'unico modo per convincere questo coronavirus, come lo chiamo, insomma, per liberarci. La sensazione diffusa è che per chi ha tanta vita alle spalle la pandemia sia soltanto una prova in più. È una cosa nuova. Cioè, andando avanti si peggiora sempre, diciamo così. Oggi, domani e dopo, i centri vaccinali attivi sono quelli di Sondrio, presso il Policampus, appunto, e a Chiavenna e a Morbegno, presso i rispettivi presidi ospedalieri. Domani sarà operativo anche il punto di Sondalo, presso l'ospedale Morelli. Dal 22 al 28 febbraio saranno attivati anche i centri di Bormio, Tirano, Berbenno di Valtellina, Villa di Tirano e Dubino. Sempre a partire dal 22 febbraio saranno coinvolti in questa fase della campagna vaccinale riservata agli over 80 anche i medici di Medicina Generale che hanno aderito all'iniziativa. È importante ribadire che soltanto chi ha ricevuto comunicazione con data e ora dell'appuntamento si deve presentare al centro vaccinale indicato. E mentre prosegue la campagna di vaccino anti-Covid, grazie alle donazioni raccolte da Insieme per Vincere, per sostenere le strutture e lo sforzo degli operatori sanitari che curano i malati ricoverati a Sondalo, all'ospedale dell'Alta Valle sono stati donati 20 letti elettrici che questa mattina sono stati sati al secondo e al quarto piano del primo padeglione per essere assegnati ai reparti Covid-19. Presente il direttore amministrativo di presidio Renato Paroli, il direttore sanitario Giuseppina Ardemagni e il dirigente delle professioni sanitarie e infermieristiche Tonino Trinca Colonel hanno accolto i rappresentanti dell'associazione al quarto piano del primo padeglione, nell'area antistante l'ingresso del reparto Covid-19, per un incontro con medici e infermieri. Per noi oggi è una giornata importante, ha esordito il direttore sanitario Ardemagni. Sono favorevolmente stupita dalla vostra capacità di raccogliere contributi, ma anche aiuto da tante persone. I letti elettrici sono fondamentali perché migliorano il comfort e la sicurezza dei pazienti e aiutano chi li assiste. Il vostro è un grande dono che merita il nostro ringraziamento. È stato un anno difficile, non siamo ancora usciti dalla pandemia, ma oggi abbiamo il vaccino ed è importante farsi vaccinare. Eloquente è la testimonianza del dottor Patrick Caspani, che si è espresso per i colleghi impegnati nei reparti Covid-19. Qui dentro viviamo momenti difficili ed è facile cadere nello sconforto, ma questi gesti di generosità ci fanno sentire la vicinanza della gente e ci aiutano ad andare avanti e a svolgere il nostro lavoro. I ventilatori elettrici donati da Insieme per Vincere si aggiungono a quelli acquistati dall'azienda l'estate scorsa, 100 in totale, di cui 50 destinati al Morelli. Ora cambiamo argomento. Dopo un'attenta rilettura del comunicato emanato martedì scorso dal prefetto di Sondrio, indirizzato a Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Salute, comunicato che poi aveva portato alla chiusura a scopo cautelativo dell'accesso a tutte le aree in cui sorgono impianti sciistici, oggi il sindaco di Val di Sotto, Alessandro Pedrini, puntualizza in una nota indirizzata alla prefettura alcuni passaggi di questo comunicato. Primo fra tutti, le piste nel loro stato attuale non possono essere definite aree sciabili attrezzate e di conseguenza non possono essere applicate le norme regolamentarie di legge. Sentiamo. Come era prevedibile che accadesse, si sta risolvendo in un ping pong di pura giurisprudenza la vicenda connessa al comunicato emanato lo scorso 16 febbraio dal prefetto di Sondrio, Salvatore Pasquariello. In tale comunicato, facendo seguito alla riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia per un esame interpretativo da attribuire all'espressione impianti nei comprensori sciistici, l'ufficiale prefettizio aveva posto dei quesiti a governo e regione, applicando in attesa di risposte il veto assoluto di salita e discesa sulle aree lungo le quali sorgono gli impianti da sci. In poche parole, piste chiuse finché perdurerà la chiusura degli impianti. Leggi fino al 5 marzo prossimo. Dopo le reazioni al fulmicotone registrate anche sulle pagine dei nostri social, è di oggi la lettera nella quale il sindaco di Val di Sotto, Alessandro Pedrini, richiede al prefetto una serie di chiarimenti rispetto allo svolgimento della pratica scistica amatoriale. Innanzitutto, il primo cittadino chiarisce che un possibile equivoco possa nascere dal fatto che le piste, nel loro stato attuale, vengano considerate erroneamente aree sciabili attrezzate. In quanto tali aree non sono attualmente aperte al pubblico, a causa della chiusura degli impianti, puntualizza Pedrini, le piste non possono essere considerate aree attrezzate sciabili. Non è quindi applicabile la normativa che ne viete il passaggio. Allo stato attuale, come in estate e come le aree boscate circostanti, si legge, esse sono semplicemente tratti di versante montano e come tali liberamente accessibili da chiunque. Ognuno le percorre a suo rischio e pericolo. Il sindaco evidenzia inoltre che il proibire le risalite e soprattutto le discese sulle piste da sci, attualmente non aperte, agli appassionati dello sci alpinismo, delle ciaspole e agli amanti in generale della montagna, potrebbe portare gli affissionados delle passeggiate sulla neve a percorrere itinerari fuori pista in un momento di particolare pericolosità come quello attuale. Il pericolo valanghe, nelle ultime settimane, indica di fatto costantemente un pericolo da 3 marcato a 4 forte sulla scala europea del pericolo valanghe, su un grado massimo 5 molto forte. La chiosa del comunicato è dedicata al punto in cui le osservazioni scritte dal perfetto di Sondrio fanno riferimento testuale alla possibilità di adoperare le piste per raggiungere le strutture ricettive ubicate in vetta. Per strutture ricettive si intendono le strutture alberghiere ed extra alberghiere, case per ferie, ostelli per la gioventù, foresterie e locande, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, rifugie e bivacchi, strutture all'aria aperta, ma anche ristoranti e bar che, essendo aperti, devono poter essere raggiunti utilizzando le piste da sci, non essendoci altro modo. Infortunio oggi intorno alle 15 per un uomo 600 metri di quota nei boschi di Menarola, nel territorio comunale di Gordona. È stato necessario l'intervento della settima delegazione del soccorso alpino Lombardo, sul posto anche la stazione di Chiavenna del CNSAS, il soccorso alpino Guardia di Finanza, i carabinieri, i vigili del fuoco, il personale dell'ambulanza e l'automedica. L'elisoccorso di Comodi a Reu aveva ricellato l'equipe medica nelle vicinanze. Le operazioni di recupero sono durate un paio d'ore. Ora parliamo di agricoltura, perché scade il 31 marzo, il tempo utile per poter presentare la richiesta di disoccupazione agricola, uno strumento utile in particolar modo per i lavoratori stagionali. Ce ne parla Giuliano Padroni. Interesserà coloro i quali hanno operato in ambito agricolo, seppur per un breve periodo durante l'anno 2020, e sarà un importo erogato dall'Inps. Parliamo della disoccupazione agricola. Ne abbiamo parlato con Cristian Tarabini, direttore responsabile del patronato EPACA di Coldiretti Sondrio. Si avvicina la data del 31 marzo, data fissata per il termine delle consegne per quanto riguarda le domande di disoccupazione agricola. Di che cosa si tratta? Si, si tratta di una domanda un po' diversa dalla solite disoccupazione, che adesso si chiama con un nome quasi impronunciabile, NASPI, che riguarda la generalità dei lavoratori. Qui stiamo parlando invece dei lavoratori a tempo determinato in agricoltura e che sono soliti fare la domanda, perché è questa la previsione di norma, tra il 1 gennaio e il 31 marzo dell'anno successivo per le giornate non lavorate e non indennizzate l'anno precedente. Quanti sono e se è possibile tracciare un po' un profilo numerico di quante possano essere le persone interessate nella nostra provincia? Sicuramente in Valtellina, in provincia di Sondra, abbiamo tanti lavoratori del settore perché legati al vigneto, per cui alla lavorazione delle viti, ai frutteti in alta valle, tutti quelli che si occupano anche d'estate dei pascoli, per cui gli aiuti anche alle aziende zootecniche produttrici di latte. Noi come Coldiretti abbiamo circa 300 dipendenti delle nostre aziende per i quali poi ci occupiamo dell'inoltro di questa domanda. Con questa domanda si integra tutta la contribuzione possibile dell'anno. La disoccupazione agricola è utile figurativamente ai fini previdenziali e permette quindi di coprire interamente l'anno contributivo ai fini dell'uscita pensionistica futura. È inoltre possibile per i lavoratori del settore agricolo, ma entro e non oltre la fine di febbraio, l'invio di un'istanza all'Inps per vedersi riconosciuto il requisito di lavoratore usurante. Di fatto un diritto per allevatori, agricoltori e tutti coloro i quali operino quotidianamente nel settore agricolo che rientrano di diritto nella normativa dedicata ai lavori gravosi. I requisiti sono due, avere almeno un anno prima del compimento dei 19 di età e raggiungere 41 anni di contributi. In questo caso l'uscita non è più quella tipica dei 42 e 10 o 41 e 10 se uomo o donna, ma si ferma a 41 il requisito contributivo. Comunicare un nuovo brand della zona, svolgere attività con cittadini, associazioni e scuole, rivitalizzando il quartiere, rigenerare e rilanciare gli spazi caduti in disuso, organizzare i laboratori e corsi. L'area della piastra a Sondrio ha tutte le carte in regola per tornare ad essere luogo di incontro e spazio culturale. Simone Belletti. Un progetto di riqualificazione a 360 gradi che non conosce soste e che tocca ambiti culturali, sociali ed urbanistici. Il quartiere della piastra a Sondrio continua il suo processo di cambiamento. Questo pomeriggio conferenza stampa online per illustrare le azioni socio-culturali previste a breve termine. Questo è un progetto molto importante, diciamo che è la componente sociale, la parte sociale del più complesso e articolato bando delle periferie. Verrà gestito dalla cooperativa Solco ed è rappresenta una serie di iniziative, di azioni che hanno tutto il senso, l'idea, lo scopo di rivitalizzare, rigenerare un quartiere che purtroppo negli anni è stato un po' dimenticato e ha subito una sorta di degrado. Rivitalizzare il quartiere, rianimarlo e dargli un volto nuovo. Diversi gli interventi orientati in quest'ottica. Comunicare una nuova immagine, un nuovo brand del quartiere. L'abbiamo già creato, l'abbiamo chiamato la nuova piastra, abbiamo scelto dei colori, molto in linea con quello che è la comunicazione e il marketing, diciamo, del nostro partner che è il comune di Sondrio. Poi abbiamo un'azione che riguarda più l'animazione di quartiere, si chiama anche service learning, in cui con i cittadini, con gli abitanti, con le organizzazioni che ci sono lì, dalla scuola all'oratorio, alle organizzazioni presenti e con i cittadini stessi fare delle attività, attivarci. Nella rigenerazione degli spazi, purtroppo sono spazi anche caduti in disuso e ci sarà un'azione forte, importante, anche per cercare di recuperare e rivitalizzare questi spazi. E infine poi abbiamo un coordinamento generale di tutte quelle iniziative più culturali che con i partner di progetto, i soggetti della nostra rete, con l'ufficio eventi del comune, con chi vorrà anche in futuro aggregarsi, vorremmo appunto coprogettare. Covid permettendo. Un'area, quella della piastra, che ha tutte le carte in regola per ritornare ad essere un luogo di incontro cittadino, uno spazio culturale e di aggregazione sociale. Ripopolare il quartiere di giovani, ma anche coinvolgerli nei progetti, gli obiettivi prefissati dall'amministrazione comunale e dal consorzio Solco-Sondrio. Beh, già adesso c'è una percentuale di giovani più alta rispetto al resto della città. Comunque noi ci proviamo, diciamo che questa può essere veramente l'occasione giusta per cercare di riportare smalto, rivitalizzare un quartiere che purtroppo ha subito un degrado nel corso degli anni. I nuovi dati resi noti dall'Osservatorio del Reddito di Cittadinanza dell'Inps dipingono una nazione come sempre a doppia velocità. La nostra provincia, seppur con un trend di richieste in aumento a causa del dissesto economico causato dalla pandemia, si mantiene fanalino di coda nella classifica su ricorso agli aiuti offerti dallo Stato. Ne parliamo nel prossimo servizio. Sono stati 1.200.000 su scala nazionale i nuclei familiari che durante il mese di gennaio 2021 hanno percepito il reddito di cittadinanza per un totale di 2.800.000 persone beneficiarie di un importo medio pari a 573 euro a famiglia. 115.000 ai nuclei familiari che hanno usufruito invece della pensione di cittadinanza con un importo medio pari a 240 euro. I dati, quelli resi noti dall'Osservatorio del Reddito di Cittadinanza dell'Inps evidenziano una realtà lombarda evidentemente più rose a rispetto a situazioni limite, come quella campana, certo, ed in calo costante di richiesta rispetto al 2019, quando nella provincia di Sondrio furono 1.754 i nuclei richiedenti reddito e pensione di cittadinanza, quota che nel 2020 è calata 1.308. A gennaio del 2021 sono state 118 le famiglie richiedenti. I dati che invece si riferiscono alle famiglie richiedenti il sussidio statale in maniera non continuativa, magari per una sola mensilità, delineano una regione Lombardia che nel 2020 ha accusato maggiormente il calo occupazionale, evidentemente a causa delle chiusure dettate dalla pandemia. E infatti, se nella sola Lombardia nel 2019 si registravano 14.048 famiglie riceventi il sussidio sporadico e non continuativo, nel 2020 i numeri sono cresciuti toccando quota 15.626 famiglie. Quest'anno i nuclei familiari richiedenti si attestano a 12.430. Ed è il mese di settembre dello scorso anno quello nel quale si è registrata l'erogazione massima di sussidi, riflesso evidente di una crisi occupazionale da record. Quasi 678 milioni di euro erogati su scala nazionale e destinate ai percettori di reddito di cittadinanza. E arriviamo così al 2021. Nella sola Lombardia, le famiglie richiedenti reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza attestate al mese di gennaio sono un totale di 106.380 con un importo medio mensile di 470,10 euro. Stringendo il focus sulla provincia di Sondrio, a gennaio 2021 sono in totale 1.082 i nuclei beneficiari di reddito e di pensione di cittadinanza. L'importo medio è di circa 450 euro. Insomma, lungo una provincia che come la nostra conta circa 181.000 abitanti, Valtellina e Valchiavenna mantengono tutto sommato una condizione di richieste assistenziali minore rispetto a tutte quante le altre città lombarde. E poi c'è il reddito di emergenza, la misura di sostegno economico istituita con l'articolo 82 del decreto legge maggio 2020 in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. 29.086 le domande accolte dall'Inps nella sola Lombardia e nella provincia di Sondrio sono ad oggi 283 i nuclei familiari beneficiari della misura assistenziale con un importo medio mensile di 531,58 euro per nucleo familiare. Qui da noi, dunque, il ricorso al reddito emergenziale registra dunque numeri tutto sommato non ancora così preoccupanti. Augurandoci di non dover tornare più in zona rossa una buona notizia soprattutto per chi tiene al proprio aspetto c'è sarà possibile andare non più soltanto dal parrucchiere ma anche dall'estetista. Sentiamo perché. Che dire, meglio tardi che mai se dovessimo tornare in zona rossa ovviamente speriamo di no non dovremmo neppure rinunciare alla pedicura o massaggio alla ceretta. Il merito è del Tar del Lazio che con una sentenza di soltanto due giorni fa ha disposto l'annullamento della disposizione contenuta nel DPCM del 14 gennaio scorso nella parte in cui esclude gli estetisti dai servizi alla persona erogabili in zona rossa. Noi avevamo più volte rappresentato questa cosa cioè ritenendo veramente illogico questa discriminazione tra acconciatori e centri estetici. Finalmente un Tar, il Tar del Lazio ha proprio accolto questa indicazione annullando la disposizione. Siamo felicissimi di questo risultato. Anche noi della provincia di Sondro abbiamo dato il nostro costante contributo portando avanti questa istanza dal primo momento e siamo soddisfatti dei risultati che durante tutta questa pandemia siamo riusciti a portare a casa per i nostri associati. Il presidente provinciale della categoria benessere dà il giusto lustro a quello che è stato un intenso ed efficace lavoro di squadra. Voglio quindi ringraziare tutte le persone di Confartigianato che ogni giorno si impegnano per ottenere questi importanti risultati i presidenti provinciali i presidenti di categoria i funzionari i segretari insomma tutte persone che ogni giorno mettono a disposizione il loro tempo la loro professionalità le proprie competenze a beneficio di tutti gli associati e questa cosa ci stimola a far sempre meglio e ad andare avanti così perché veramente con un po' di orgoglio ritengo che noi della provincia di Sondro questa volta abbiamo fatto un ottimo lavoro. Comprensibile dunque la soddisfazione di un intero comparto di fronte al provvedimento del Tardellazio che sposa il buonsenso e la logica non c'era infatti ragione per discriminare e disciplinare in maniera diversa acconciatori e centri estetici importantissimo ora che se ne tenga conto nel DPCM atteso per il prossimo 5 marzo. Nel frattempo qualche organo di controllo locale potrebbe contestare la riapertura in questo caso non facciamoci spaventare e in serie di verbalizzazione dovremo eccepire l'autorità l'illegittimità per il comportamento alla luce appunto di questa nuova sentenza chiedendo che ne sia data evidenza proprio nel verbale e riservandosi di richiedere risarcimento di eventuali danni nelle sede opportune. Una famiglia che ha deciso di vivere in camper un viaggio interrotto in Portogallo causa la pandemia è quello di Daniela e Thomas con i figli Federico di 7 anni e Pietro di 4. Daniela ci racconta difficoltà soddisfazioni e prospettive di questa famiglia valtellinese che ha deciso di vivere e far crescere i figli in modo decisamente alternativo. Paolo Croce Non il giro del mondo in 80 giorni ma un viaggio in campo per cambiare vita perché è insoddisfatto di quanto la valtellina poteva offrire. È il percorso intrapreso da Daniela De Angelis e Thomas Fontana con i figli Federico di 7 anni e Pietro di 4. Poi quasi un anno fa lo scoppio della pandemia in Europa e l'obbligo di fermarsi in Portogallo. Daniela è stata ospite di Radio DSN e ci ha raccontato come sta andando. In questo momento siamo nel distretto di Faro vicino ad una cittadina abbastanza grande che si chiama Silves e quindi a mezz'ora è stata dalla costa meridionale del Portogallo. Posti bellissimi ma com'è la vostra vita in camper? Vuoi raccontarcela? Tu, Thomas e i figli come si vive in camper perennemente? Allora è una domanda complessa perché dipende da tante cose dipende se si viaggia se si sta fermi noi in questo anno e mezzo abbiamo fatto entrambi le cose da novembre di due anni fa ci siamo siamo partiti dalla Valtellina e per cinque mesi abbiamo girato quindi siamo stati in Francia in Spagna in Marocco e siamo arrivati in Portogallo verso marzo marzo siamo stati bloccati dall'inizio della pandemia quindi da quel momento la nostra vita in camper è stata più ferma più stabile prima su un terreno e poi su un altro terreno in cui ci hanno ospitato e anche ora che la situazione qui in Portogallo è di lockdown quasi totale siamo fermi in un terreno con altre famiglie con cui ci siamo conosciuti stada facendo che vivono anche loro in camper o in furgoni noi abbiamo sempre avuto un'idea abbastanza precisa di quello che volevamo per noi per i nostri figli come volevamo vivere e quindi anche in Valtellina abbiamo cercato di costruire dei progetti sia per bambini che per la nostra vita familiare che però in Valtellina diciamo che non hanno trovato un terreno fertile Quali erano questi progetti Daniela? Allora io in Valtellina mi occupavo di divulgare pedagogie non direttive cioè organizzavo seminari sulla pedagogia montestoriana piuttosto che sulla pedagogia del bosco e il nostro sogno sarebbe stato quello di creare un ambiente di apprendimento per i nostri figli ma anche per i figli delle famiglie che avrebbero voluto partecipare basati su una sulla pedagogia diciamo non tradizionale ma più basata sulla sullo stare all'aria aperta sull'apprendimento guidato e non diretto dagli adulti ma codiretto dai bambini e dagli adulti insomma i bambini erano accompagnatori del percorso di apprendimento dei bambini Quindi ti sei sentita un po' dei bambini un po' delusa da questa situazione che non si è evoluta e allora avete fatto evolvere invece la vostra voglia di viaggiare esatto esatto abbiamo deciso di dopo varie tentative abbiamo deciso di staccarsi momentaneamente da una casa che comunque avevamo in affitto il vostro viaggio in tutti i sensi sta avendo un'evoluzione insomma Daniera esatto esatto quello che stavamo cercando in un certo senso l'abbiamo trovato abbiamo trovato delle persone con cui stiamo bene e con cui spontaneamente ci siamo trovati e tutti abbiamo avuto la volontà di vivere insieme quindi abbiamo trovato un ambiente per i bambini in cui loro quotidianamente possono vivere a contatto con altri bambini abbiamo avviato un progettino di diciamo di spolina in cui seguiamo gli interessi dei bambini in alcuni giorni in altri proponiamo dei laboratori a tema sulle varie tematiche insomma perché molti bambini qui hanno già età da elementari quindi stiamo seguendo attraverso l'istruzione parentale il loro apprendimento della lettura della matematica della scrittura perfetto quindi vi state dando da fare anche lì noi vi seguiremo sul vostro sito internet intanto vi auguriamo buon viaggio per quanto rimanete fermi lì velocemente guarda non lo sappiamo viviamo e torniamo a parlare di piano faunistico venatorio quel piano che proprio non piace ai presidenti dei comprensori alpini ma il mondo venatorio non è riunito sotto l'egida di questi personaggi e vi sono anzi parecchi cacciatori sia dentro che fuori il mondo delle associazioni che non soltanto seguono le sorti del piano caccia ma lo vedono anche come una grande opportunità per il futuro dell'ambiente della fauna beni questi comuni e non certo dei soli cacciatori ne abbiamo parlato con Alessandro Marini Alessandro Marini cacciatore è certo che dopo questa intervista gli daranno dell'ambientalista come se una caratteristica escludesse l'altra in un certo senso Marini rappresenta al meglio lo spirito di quello che sarà il piano faunistico venatorio della provincia quello che tra meno di un mese almeno secondo gli auspici del presidente dell'amministrazione provinciale Elio Moretti dovrebbe finalmente vedere la luce dopo una gestazione monstro di quasi 13 anni Il piano faunistico venatorio non è uno strumento che serve solo alla caccia il piano faunistico venatorio è uno strumento che per natura sua è di compromesso tra tanti portatori di interesse ma prioritariamente ha un obiettivo è quella della protezione della fauna valtelinese della conservazione della fauna valtelinese perché la fauna valtelinese non è un bene dei cacciatori ma è un bene di tutta la comunità valtelinese quindi il nostro impegno deve essere quello della conservazione della capacità di tramandare questo stato di buona salute della fauna valtelinese ai nostri figli di mantenerlo per il resto della comunità e quindi non deve essere uno strumento d'uso e consumo del mondo della caccia Per chi non seguisse la vicenda lo stallo in cui si trova il piano dipende dalla fortissima opposizione a questo da parte dei presidenti dei comprensori alpini i quali però come spiega Marini non rappresentano certamente l'intero mondo venatorio Fino al 28 di gennaio sono stato membro della consulta venatoria provinciale nominato dalle associazioni venatorie provinciali poi revocato su richiesta delle stesse naturalmente perché la mia posizione era di contrasto a quella rappresentate dalle associazioni dei presidenti di comprensorio che osteggiano in maniera assolutamente rigida l'approvazione del piano fonistico venatorio la mia posizione invece è naturalmente di sostegno non che il piano faunistico venatorio sia privo di difetti o manca di correzioni è un piano che è sicuramente migliorabile un piano faunistico venatorio dunque passibile di aggiustature ma non da bocciare come vorrebbero i presidenti dei comprensori alpini il mondo venatorio è stato comunato in toto come assolutamente unito su questa posizione non è vero il mondo venatorio è naturalmente variegato con tante sensibilità con tanti punti di vista e non esprime certo la condivisione di questa di questa posizione Marini fa notare che né il presidente del comprensorio alpino o nei membri del comitato di gestione del comprensorio sono eletti direttamente dai cacciatori ma dalle associazioni venatorie dalla provincia dalle comunità montane dal CAI dalle associazioni degli agricoltori e da quelle ambientaliste verrebbe normale pensare che questa posizione di assoluto contrasto dei comprensori alpini sia una posizione condivisa anche dal comitato di gestione e da questi membri quindi anche dal CAI anche dal rappresentante della provincia e a questi inviterei magari di prendere una posizione e farci capire qual è il dibattito che è avvenuto in questi mesi all'interno del comprensorio alpino per sostenere questa posizione in ogni caso il presidente della provincia è stato chiaro un mese e non di più per arrivare a una sintesi che soddisfi i presidenti dei comprensori alpini il piano non sarà comunque stravolto il presidente Moretti va ammirato per la pazienza che sta dimostrando in questo momento perché sta dando veramente tutte le possibilità al mondo venatorio o perlomeno chi rappresenta una parte del mondo venatorio che sono i presidenti di comprensorio alpino di in zona Cesarini di riuscire a trovare una mediazione sui punti del piano fornistico venatorio sul quale non sono d'accordo questo secondo Marini dovrebbe essere però un mese per ascoltare tutte le voci dei portatori di interesse non solo quella dei cacciatori che hanno avuto dei cacciatori rappresentati dei presidenti di comprensorio alpino perché poi c'è questo terzo di cacciatori che non è mai stato ascoltato che non ha mai avuto diritto di ascolto anzi è sempre stato diciamo al di fuori di tutte queste situazioni l'invito è al presidente che inviti a queste riunioni anche tutti gli altri portatori di interesse che sono questo terzo importante del mondo venatorio che si chiama fuori da quella posizione dei presidenti di comprensorio alpino intanto il tempo stringe e l'obiettivo è uno soltanto compromesso definitivo e che poi porterà all'approvazione del piano nell'interesse naturalmente di tutte le parti quindi questo è l'auspicio e non solo dei cacciatori e non solo dei cacciatori noi siamo una parte molto limitata della comunità e forse dopo questa intervista diranno che sono un ambientalista ma lo dico volentieri sono prima ambientalista che cacciatore perché io dovrò lasciare i miei figli una veramente una fauna in ottima salute e quindi penso che sia prioritario questo poi se questo sarà compatibile con l'esercizio dell'attività venatoria ben venga altrimenti dovremmo sicuramente metterci mano è tutto grazie per averci seguiti e arrivederci ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Telesondrio News buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti